Benvenuta e benvenuto. Nella lezione di oggi cercheremo di trasmettervi quello che è il messaggio principale delle nostre lezioni di questo corso di patologia orale e in particolare quello di riuscire a portare la medicina orale in studio e gestire dei pazienti con delle lesioni orali e con delle condizioni tipiche della patologia orale all'interno dei nostri studi senza necessariamente pensare subito a inviare il paziente a uno specialista o a delegare appunto questo tipo di situazioni. Quindi per fare questa cosa risulta fondamentale affrontare un argomento prima di tutti e l'argomento principale è quello della visita. La visita che vedete in questa slide abbiamo voluto definire come visita di medicina orale perché visita esclusivamente delle mucose orali rischierebbe di risultare fin troppo restrittiva per i motivi che vedremo successivamente. Infatti noi andremo sia a visitare tutto il cavo orale del paziente ma anche distretti extra orali che risultano essere fondamentali per offrire un buon servizio al nostro paziente e avere una visione globale di questa situazione. E questo perché a questa foto sono molto affezionato e quando vi dico che essere metodici è l'aspetto principale relativamente appunto alla visita in medicina orale è perché questa è una foto che io ho fatto a un mio paziente. Io lavoro anche come dentista generico nel mio studio e questa è una foto che io ho fatto al mio paziente al secondo appuntamento durante il quale io appunto l'ho visitato. Al secondo appuntamento in cui lui è tornato per poter eseguire delle cure odontoiatriche io ho fatto questa foto perché ho visto che aveva questa enorme lesione che durante la mia prima visita non avevo identificato. Vi posso assicurare che era sicuramente presente perché l'avevo visto pochi giorni prima ma probabilmente per la fretta probabilmente perché mi ero concentrato sul problema che lui aveva evidenziato relativamente alla dentatura io ho guardato solo una piccola parte della sua bocca dimenticandomi questa lesione. Vediamo quindi per settori quali sono i distretti che devono essere appunto visitati a livello del cavorale. Tralasceremo chiaramente insomma anche se deve essere sempre fatto la visita diciamo del settore più propriamente gengivale parodontale del settore dei denti e andremo appunto a visionare alcuni alcuni settori che risultano essere fondamentali. Facciamo partire appunto questo video dove il concetto che voglio ribadire è quello appunto di partire chiaramente dalla visione delle labbra anche del versante cutaneo in cerca di eventuali alterazioni. Concentriamoci quindi adesso su un tipo di diciamo su questi settori che abbiamo iniziato a vedere durante il primo video relativo alla visita. Ancora una volta stresso il concetto dell'attenzione perché? Perché vedete che questo è un grande classico se voi prendete con due dita al labbro lo girate una volta potete andare a perdervi alcune lesioni mucose e questo appunto è un grande classico di una visita appunto condotta in maniera superficiale